Barato di burloli, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video della vanilla! Siamo nel 43esimo episodio e prima che inizi il video vi devo parlare un paio di minuti. Se non volete sentirvi questa parte, passate direttamente circa 3 minuti perché più o meno da lì inizierò a fare il video. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa abbastanza importante. Ultimamente la vanilla è stata un pochino trascurata a causa fiere, causa devo fare tanti video, causa non riesco a dedicare più tempo da farmare off camera, da scegliere che cosa fare o comunque avete capito quello che voglio dire. Allora, io oggi sono qui per farvi un paio di domande. Anche perché ultimamente i like alla vanilla sono veramente calati in maniera vertiginosa. Vertiginosa vuol dire che fino a due settimane fa ne facevamo quasi il doppio di quello che ne facciamo adesso. Per me non è un problema perché io la continuerò a fare lo stesso perché è una cosa che comunque mi piace fare, però vorrei avere un appagamento maggiore per quando faccio la vanilla, per il semplice fatto che è la mia serie preferita e vorrei capire se anche a voi piace perché fino a tot episodi fa mi facevate esaltare quando caricavo la vanilla. Quindi niente, oggi ragazzi sono qui per chiedervi due cose. Di commentare con hashtag MarciConsigliStruttura con una struttura da fare qui nella città. Ma non dovete solo commentare, ma se potete mandatemi uno screen o su Facebook o su Instagram della struttura che volete farmi costruire, per il semplice fatto che ultimamente ho poco tempo da dedicare a prepararmi la struttura off camera e magari se mi date una mano a voi sarebbe una cosa veramente figa, figherrima del mondo e dell'universo. E seconda cosa appunto lasciate un mi piace, cerchiamo di magari ragazzi superare i 4000, sarebbe una cosa fantastica perché mi fareste capire che la vanilla a voi piace ancora tantissimo. Ora, parliamo di quello che ho fatto off camera senza dilungarci troppo, invece dei 3 minuti ho fatto 1 minuto e 50. Allora, mi avete detto in una marea di metterle Sea Lantern, non ho scelto i commenti, poi è il semplice fatto che se mi metteva a scelere i commenti dovevo mettere tipo 200, perché veramente in 200 quasi avete commentato su metterle Sea Lantern. Sono andato nella farm di Guardiani e ne ho trovati giusti giusti 9, in realtà ne avevo trovati 8, ma uno c'avevo nella cesta e ne ho messo là in alto. Ho aumentato di uno la nostra fantastica Fontana e secondo me è molto bella anche con la Cobblestone, visto che in molti mi ha dato marci, ma la Cobblestone fa cagare. Allora, sincero, con la Prismarine secondo me ci sta, anche perché questa Prismarine è fantastica, a me piace veramente tantissimo. Se volete possiamo cambiare la Cobblestone con il Quarzo, quindi scrivetemelo nei commenti se preferite il Quarzo, lo mettiamo tranquillamente. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto un mini parchetto qui, ho creato le nostre fantastiche cose, le panchine, secondo me mi piacciono tantissimo, e ho aggiunto anche le panchine sui lati, sull'angolino. Questa ne ho fatta solo una perché lì non volevo ancora farla, volevo aspettare un vostro risponso, quindi nei commenti ditemi se vi piace, quindi commentate già dicendomi se preferite il Quarzo o la Cobblestone, e sicuramente questa cosa qui. Poi per quanto riguarda il parchetto, secondo me ci sta, poi tipo da questa parte, non so, possiamo già iniziare a fare un vialetto, anche tipo qua dietro, non per forza, si può fare anche dietro la panchina perché tanto si ingrossa, insomma avete capito. Qua potremmo fare il Bakery Shop. Che cosa è il Bakery Shop? È il panettiere. Il panettiere, mandatemi nei commenti come volete farvi diventare il panettiere, perché a me piacerebbe veramente moltissimo fare qualcosa di vostro. Oggi su che cosa ci concentreremo? Ci concentreremo un attimino sul finire per bene la banca. Che cosa vuol dire finire bene la banca? Ah, innanzitutto qua ho fatto anche dei lampioni. In realtà qui l'ho provato a fare con le fence e qui con il Cobblestone Wall. Mandatemi anche qua degli stili di lampioni perché così non mi fa impazzire. Comunque, oggi ho portato un bel po' di villager ragazzi, perché veramente volevo finire per bene questa banca. Allora, adesso, io un po' di cose ce le ho. Dovrei avere anche, a dire il vero, degli stone brick. Credo che li abbiamo, credo che li abbiamo... Non li abbiamo, sì, li abbiamo, meno male. Sì, ok, li abbiamo. Stavo controllando un attimino se ne avevamo abbastanza. Qui abbiamo anche queste, possiamo usare anche queste, possiamo usare anche queste, possiamo usare anche queste, abbiamo un pochino tutti insomma, avete capito? E niente, adesso voglio fare le cabine, le cabine con gli sportelli. Gli sportelli saranno tipo un botto, credo, perché alla fine è così che funziona la banca. E niente, iniziamo subito a farli. Allora, come voglio fare queste cabine qua? Inizierei da qua. Inizierei da qui perché qui... Allora, anzi no, qui si può fare che è la fine delle cabine. Tipo da una parte facciamo i prelievi, non so, qualcosa del genere. Adesso facciamo così. Saliamo di tre. Qui si fa più o meno, insomma, più o meno grosso così, perché deve essere abbastanza grande. Qui si fa così e ci serve il vetro che ho dimenticato però, perché sono un gran pirla senza il vetro. Come facciamo a farlo? Bravo Marci, complimenti, veramente complimenti. Allora, già che c'ero ho dormito. Ho preso solo quelli che avevo nella cesta, ne avevo circa uno stack e mezzo, non credo che basteranno mai nella vita. Però si può comunque pensare che vadano bene. Allora, ho bisogno degli slab. Slab ne ho addirittura dieci che sono perfetti. Poi, qui bisogna mettere, non so, potremmo lavorare, sì, lavoriamo con questi qua. Allora, andiamo. Si fa così, questo qui va così, qua si mette il nostro coso qui in questa maniera e sopra ci mettiamo il nostro vetro con un'apertura dietro a vetro. Possiamo, ragazzi, però usare, usare i panel. Perché dico di usare i panel? Perché sì, perché ho deciso di usare i panel, ok? Io ho deciso di usare i panel, anzi, facciamoci anche una bella chest. Facciamoci una bella chest, perfetto. La mettiamo qui così lavoriamo un attimino un pochino più vuoti, perché veramente, se no qua, se no qua è un bel casino. Ok, prendiamoci un attimo il piccone, lo rimettiamo qui. Abbiamo anche la nostra ascia, la mettiamo qui. E possiamo lavorare in maniera più decente, ok? Anzi, facciamoci subito i panel, dai, facciamoci subito i panel. I panel ne facciamo già due per adesso. Allora, sarà così. Qui faremo una cosa del genere. Qui, raga, si fa una cosa del genere. Boom, boom e boom. Ok. Qui sarà dove appunto daremo le cose. Qui potremmo fare anche un mini scrittoio, se possiamo fare così. Tipo, anzi, facciamo un bottone. Facciamo un bottone, perché il bottone servirà, tipo, se lo faccio così, per chiamare. Boom. Ok, mi piace, mi piace. Qui si dovrà chiudere in qualche modo, anche se qua saranno più o meno tutti connessi. Di solito sono connessi con delle cose di vetro oscurato. Il vetro oscurato non posso farlo adesso, quindi per adesso usiamo il vetro normale. Qui si fa così e passano poi da dietro. Ok, così mi piace. Così mi piace già molto, molto di più. Anche qui potevamo usare i panel, sinceramente. Abbiamo fatto un po' una stronzata. Allora, chiudiamo il villager. Lo dobbiamo portare qui, il villager. Quindi facciamo una cosa del genere. E lo chiudiamo con una trapdoor. Una trapdoor. Allora, la trapdoor dovrei avercela. Dovrei avercela, sì, ne ho addirittura sei. Perfetto, perché le ho craftate per fare la lanterna là fuori. La mettiamo qui così. Così non scappa. E ne portiamo subito uno. Non sarà molto semplice portarlo, per essere sinceri. Proviamo, proviamo a portarlo. Vediamo un po'. Quasi quasi ci conviene portarlo con la rotaia. Ci conviene portarlo con la rotaia, perché facciamo tipo mezz'ora prima. Facciamo... No, oddio. Facciamo così qua. Va bene così. Mi stai chiamando? Mi stai chiamando sul telefono, ma io non risponderò perché sono molto ACAB. Ok, portiamolo con così. Facciamo... E tac. Lo buttiamo dentro. Lo buttiamo dentro. Ce la facciamo, 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 ce la buttalo dentro. Tutto dentro, vai. Vai, che detta così è molto, molto ambio. Ce la facciamo, ce la faccio buttarti. Dai, dai. Ce la puoi fare, bomber. Ti tolgo pure questi. Ce la fai entrare. Su. Dai. Perfetto. Bravissimo. Qua intanto continuano a chiamarmi, come se non ci fossero domani. Tac, 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 e tac. Bastano questi qua. Qui si fa così. E qui si fa così. Qua non può entrare. Lo togliamo così. Sì, dai, va bene. Mettiamo questo qui, qui. E lo ributtiamo dentro. Dovrebbe bastare. Dovrebbe bastare. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Perfetto. Adesso. Io quasi quasi lo lascerei addirittura lì dentro. Lo lascerei addirittura lì dentro. Per il semplice fatto, ragazzi. Che almeno non si muove e non dà troppo fastidio. Qui facciamo così. Qui si può fare... Potremmo usarlo... Oddio, mi è venuto in idea. Possiamo usare questo come computer. Perché lo sto spaccando col piccone? Non lo so nemmeno io. Qua si fa questo così. No. Non deve essere così, insomma, pera. Cioè, facciamo. Questo deve essere così. Ce la possiamo fare. Ok. Questo sarà il pc. E non so. Possiamo anche... Adesso cerchiamo di arredare bene. Ovviamente oggi ne faremo solo uno, regà. Perché se mi metto a farli tutti finirò domani. Però voglio arredarlo per bene. Allora, però tu dovresti girarti, bomber. Dovresti girarti e forse... Ecco qua. Sei girato. Ciao. Perfetto. Guardate che bello. Bellissimo. Ok. Adesso. Facciamo una cosa tattica. Facciamo una cosa tattica. Facciamo così. Facciamo così. E ci facciamo i nostri sign. Qui facciamo tipo sportello 1. Lo mettiamo tipo da questa qua. Da questa parte qua. Sportello 1. Qui facciamo una cosa del genere sotto. E qua ci scriviamo tipo... Non so. Ricariche. Ricariche. E... Non lo so. E... 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 E bollette. E bollette. Perfetto. Facciamo solo ricariche. Perché sennò poi è un casino. Ricariche. Le bollette le facciamo dall'altra parte. Ricariche 1. Quindi... Perché lo sportello 1. Perfetto. Ok. Abbiamo fatto così. Ma come lo sistemiamo il sopra? Perché comunque qui sopra dovremo fare qualcosa. Eh... O lo lasciamo tutto bello largo. Oppure... Qui lo arrediamo in maniera un pochino più figa. Allora. Facciamo così. Facciamo così. Eh... Saliamo. Qui si può fare una cosa del genere, ragazzi. Guardate un po'. Facciamo così. E facciamo così. Perché faccio così? Perché lo facciamo passare poi per tutti. Ditemi se non è una figata. Tipo anomala. Ok. Qui ovviamente cerchiamo di farlo per uno solo. Poi mi dite se non vi piace me lo dovete dire voi. Ok. Questo già mi piace molto, molto, molto. Qui possiamo mettere delle scale. Le scale dovremmo avercela addirittura. Perfetto. Perfetto. Saliamo. Saliamo. Qua ci mettiamo le nostre scale. Così. Si fa così. Perfetto. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Maggio non ce l'ho fatta. Ok. Saliamo qui. Ho usato lo sprint. Perfetto. Perfetto. E perfetto. E qui, ragazzi, possiamo fare una cosa un pochino più carina. Ovvero. Glielo chiudiamo. Non so. Potremmo chiuderlo anche così. Qui si usa solo vetro. Tanto vetro ne abbiamo a migliaia, ragazzi. Tranquilli. Quello possiamo stare proprio tranquilli. Qui possiamo fare anche solo così. Adesso chiudiamo questo. Togliamo questo. Togliamo questo. Ok. Si toglie tutta questa ambaradam qui che abbiamo fatto. E già, ragazzi, è molto carino. Secondo me è molto, molto bello. E sa molto di banca. Qui cosa possiamo fare? Possiamo fare un piccolo corridoio. Di uno anche, basta. Si fa la stessa cosa da questa parte. Ora, proviamo a vedere quanto abbiamo di glass. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso voglio... Non lo faccio tutto, regà. Voglio solo vedere come viene nel totale. Ok. Dovrebbe... Sì, è molto, è molto bello. È molto bello. È largo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Quindi facciamo uno, due, tre, quattro e cinque. Non me l'hai fatto fare, stardo. Cinque. E le slab non ne ho più. Non ho più slab? Sei serio? Ne ho cinque giuste? Perfetto. Possiamo farne due, allora. Ok. Facciamo così. Tac, 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 tac. Ok. E saliamo anche da questa parte di tre. Più o meno tre. Sì, perfetto. Niente, ragazzi. Dovrebbe venire abbastanza bene, secondo me. Facciamo così. Facciamo uno, due. Uno, due. Tac, tac. Tac, tac, tac. E tac. Vediamo un po' come sta. È una figata anomala. È veramente una figata anomala. Mi piace tantissimo. Mi piace veramente tantissimo. Se avete idee su come decorarlo, fatemelo sapere sotto nei commenti. Perché io, ragazzi, devo essere sincero, sono veramente soddisfatto. Sono veramente soddisfatto. Proprio soddisfattissimo. Allora, qui abbiamo finito il vetro. Ok. Qui possiamo però mettere già le scale. Vediamo un attimino come sta. Allora, noi ne facciamo due già vicini. E vediamo come sta, raga. Tac, 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 tac. E anche questo qua, tac. Ok. Questo qui lo togliamo. Perfetto. Ah, sincero. Sincero è venuto veramente molto, molto bene. Sono veramente soddisfatto. E niente. Qua facciamo tutti gli sportelli. Magari, per esempio, qua me ne sono arrivanzati sei. Qui deve essere qui davanti. Facciamo una cosa del genere. Ok. Facciamo tipo una cosa del genere. Adesso qui lo rimetterò, lo farò tranquillamente off camera. Tanto le pecore rosse ne abbiamo veramente a migliaia. Possiamo fare anche come decorazione. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo una chest. Così la chest facciamo che è da mettere qui. E l'apre anche lui. Quindi facciamo così. Teoricamente la può prima. Eh no, però non viene bene perché c'è solo sto coso qua. No, non mi piace. Così non mi piace proprio. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Facciamo così. Possiamo fare in questo caso così però. No, ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata. Quello sta uscendo. Non si sa perché, ma sta uscendo il bomber. Bomber torna dentro. Torna, torna. Bomber torna dentro. Torna dentro. Per favore torna dentro. Ok. Qui si chiude. Riapriamo da quest'altra parte. Qua però potremmo mettere la chest qua. Vediamo se riesco a farlo. Perché è andato lì sopra? Perché è andato lì sopra? A parte che lui effettivamente può assaltare. Ok. Torna dentro per favore. Torna dentro. Ok. Qui facciamo una cosa del genere. Vediamo un attimino se... È un po' un casino, raga. È veramente un casinetto. È veramente un casinetto. Perché qui si fa così. E lui teoricamente questo non lo riconosce come un blocco dove saltarci sopra. Credo. Speriamo. Vediamo un po'. Se no, ragazzi, ne riportiamo dentro un altro. Non è assolutamente un problema. È molto bello. È molto bello. Perché lui si gira. Qua c'è la chest. Qui si fa così. Lui, ragazzi, se ti mettevo passare lì qualcosa, si fa così. Boom. Mi piace. Mi piace. È venuto veramente molto, molto bene. Se dobbiamo fare altri decoramenti, ragazzi... Decorazione, ragazzi. Decoramenti non si può sentire. Ditevelo sotto nei commenti. Qui si può fare anche una cosa del genere. Si può fare anche una cosa del genere. Fatemi quindi sapere sotto nei commenti. Da Marci è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, ragazzi. Mi raccomando. Consigliatemi tutte le cose che vi ho chiesto nei commenti. Ora devo andare a dormire assolutamente. Perché se no mi muovono tutti i villager come mi è già successo prima. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella.